Bella a tutti ragazzi, qui il vostro Giammi94 e benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno a tutti quanti. Oggi giochiamo a un gioco veramente molto molto simpatico che si chiama Earth Defense... Defense... The... Insect Armageddon. Mamma mia raga, già con sto nome non mi piace. Allora, perché ho iniziato a giocare a questo gioco? Perché l'ho comprato? Perché ho visto qualche video... Scusatemi un attimo ragazzi. Eccomi qua ragazzi, scusatemi per il taglio. Comunque stavo dicendo perché ho comprato questo gioco? Soprattutto per due motivi. Uno, perché ho visto qualche video su... Come si chiama? Su YouTube. Sì, sì, con calma, vaffanculo. E quindi ragazzi, devo dire la verità, anche se mi è sembrato un gioco da cretini, però l'ho comprato, perché semmai mi posso anche sbagliare. Tutti ci possiamo sbagliare sui videogiochi, no? Poi, l'ho comprato per il secondo motivo, mi viene da ridere, perché è una rivincita personale. Ovvero, è una rivincita personale perché ragazzi, io odio i ragni, mi fanno schifo i ragni. Mamma mia, ragazzi, voi non potete immaginare quanto mi fa schifo, un ragno. Comunque, continuiamo. Allora, questo non è una vera e propria campagna, ma è il Survivor. Perché ho fatto il Survivor? Perché, ragazzi, non so se vi piace questo gioco. Fatemelo sapere in un commento e semmai ci farò un video. Già vedo i pallini e non mi piace. Come cazzo si para? Ok, ok, arrivano gli insettoni giganti. Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Madonna, che schifo, che schifo, ma no, 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 ma chi ci deve giocare più, che schifo. No, 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 raga, raga, oddio, salgono sui palazzi. Oh mio Dio, oh mio Dio, che è così. Oh mio Dio, oh mio Dio, ma no, 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 andate via, andate via, schifose, schifose creatore di merda. Morite, 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 morite. Come, come cazzo? Rocket launcher, boom, 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 boom. Oddio, ho fatto crollare un palazzo, oddio, 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 oddio. Che schifo, che schifo, no, 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 ma che, ma che schifo, oh mio Dio, no, 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 no Mamma mia ragazzi, mamma mia che schifo, mamma mia che schifo, muori il pizzo di merda, muori, 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 che schifo, mamma mia che affanno proprio schifo, fammi entrare, dove stanno, dove stanno, dove stanno, morì, 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 morite, che schifo, mamma mia, mamma mia, che schifo, mamma, oh Dio, no, 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 troppo vicino, troppo vicino, torniamo al quartier generale, raga, Cosa 1310 No 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 Ment 130 Oddio ancora Ancora che schifo No ragazzi tutto per favore Allora Come si chiamano Le formiche Oh le formiche Va bene ma non i ragni Ragazzi perché No 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 raga non abbiamo capito Proprio un cazzo i ragni no I ragni no i ragni no mi fanno No 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 via 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 che schifo Mamma che schifo Mamma mia Schifo No 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 rotolate No 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 Che schifo Andate via Schifezze 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 Teste in moto Ah 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 Ti schifo Ok ragazzi vedremo fino a quando riesco a resistere 5 minuti Sono resistito 5 minuti dal cronometro Perché io mi crono Ah Mamma mia Che schifo Ah No 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 Che schifo Va via No 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 Io scappa già mi schifo Ah Ah Che schifo Mamma mia No 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 Sto morendo Sto morendo Sto morendo Sto morendo Aiuto Vanno pure sotto terra Che stronze Proviamo un'altra missione Va ragazzi che vi devo dire Siamo a 6 minuti Ancora c'è tempo Mamma mia Mamma mia Che schifo Mamma mia Mamma mia Cioè non è che fanno schifo poco Ma fanno schifo tanto Voi ci stanno i ragni no Ragazzi Tutto tranne i ragni Allora ragazzi Come seconda arma Perché qui si possono scegliere le armi Vediamo Granite Langer Lester Mrs. Langer Rocket Langer Un bel shotgun me lo metterei eh Mettiamoci questo E andiamo va Shotgun bitches Oddio che schifo Tutto tranne Ok 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 It's time to go bitches Mamma mia Ragazzi Oddio Oddio Muori Muori Shotgun bitch Shotgun bitch Ah Via Schifosa immonde Schifo immondo Dio immondo Vai via Vai via Vai via Ah Troppo vicino Via 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 Che schifo Capate Guarda quanti ce ne stanno Fuori Vabbè dai ho capito Secondo me ho fatto una cazzata Alle Ma che schifo Mamma mia Che schifo Mamma mia Guarda che si arrambitano pure sopra i muri Che schifo Che schifo Fate via Fate via Ah ma quello è il cuore Già il cuore ce l'hanno nel culo E sto sparando Ma che vuoi Non mi dire che Ah ragazzi sono a ondate Quindi Più riesco a resistere Alle ondate Più arrivano Ah ma Ah no Sono normale Che poi ragazzi Dovete sapere Che andando avanti Con le ondate In questo gioco Ci stanno anche I chizzetti Corazzati Sceglio quello Che cazzo Si Ma no No ragazzi Che cazzo Ci deve giocare più A sto gioco Fa troppo schifo Non è Nel senso che Non è che è brutto È simpatico Che in due In due Perché questo si può giocare Anche in due Madonna mia Quanto intendo dire Che fa schifo Per gli insetti Infatti voi l'avete capito Vai via tu Che ti credi Che scappi da me Che ti credi Ah Vabbè tu sei l'uno Mamma quanto Fate schifo Mori figlio di puttana Eh bravo Esplodi Figlio di puttana Sputato da tutte Ah Sputato da tutte le parti Oddio 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 Mori Oddio 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 Che cos'è Fucile a pompa Fucile a pompa Già 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 Mi sono dimenticato Io mi dimentico ragazzi Facilmente Le cose Ma sali Coglione Ok Dove siamo Run away Ok Ok Dove sono Novi dedo Torniamo indietro E torniamo indietro Oddio Eccoli Ho visto uno Sta fermo lì Do cazzo va Sto arrivando Ti sto venendo a prendere Dove Dove sei Dove siete Si sta avvicinando Madono Ma è solo uno stronzetto Vieni qua Mori Ah ed era uno ragazzi che era scappato Bene benissimo Che ragazzi facciamo un'altra ondata se mai e poi stoppiamo perché già sto a dieci minuti Sì The first incoming enemy Sì sì ho capito Distruggi i nemici che arrivano Oddio Ragazzi Ragazzi La grafica non è Aaaaaa Nooo Io sapevo che venivano pure questi Oh mio dio Questi poi Oh no 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 Che schifo Madonna Ragazzi Voi non potete immaginare Per uno che odia Aaaaaa Mamma mia No 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 Aaaaaa Enorme Enorme Che schifo Non sa No 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 Non saltatevi Prego Non saltatevi Oh mio dio Quanto sono enormi Oh mio dio No 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 Torna alla frase Oddio